Israele incontra vittoria. Due esperienze a confronto con questo claim. Stamattina è stato presentato il convegno internazionale che si svolgerà nei giorni 8 e 9 ottobre prossimi nel corso del primo internazionale Symposium on Tomato Genetics for Mediterranean Region. La due giorni è rivolta alle aziende del settore per un confronto non solo tra aziende ma anche e soprattutto tra professionisti e ricercatori italiani e stranieri. Obiettivo è il futuro dell'economia agricola siciliana. Promotore del convegno e direttore responsabile di Agri Sicilia il mensile del sistema agricolo e agroindustriale siciliano Massimo Mirabella. Crediamo nell'inalzamento qualitativo della professione degli stessi operatori motivo per cui sia come giornale che con i nostri convegni e eventi puntiamo sempre alla diffusione dell'innovazione scientifica. Abbiamo deciso di rivoluzionare un pochino i format dei convegni, delle presentazioni e di quanto accade sul territorio ormai quotidianamente. Stiamo puntando con questa sinergia col consorzio Promoter e con la gestione diretta di questo Palagri Sicilia ad un format nuovo di altissimo livello qualitativo, luminari che verranno da fuori, dall'università italiana e altro solamente su inviti e solamente dietro un ticket d'ingresso. Il convegno a cui sarà possibile partecipare solo su invito vedrà la presenza di numerose aziende sementiere italiane ed europee e di specialisti di fama internazionale nel campo della ricerca varietale e della lotta contro patologie fungine e virosi. Presente oggi in conferenza stampa nella sede del consorzio Promoter Group anche Gianni Polizzi. Il nostro consorzio è da sempre orientato ai servizi nel mondo agroalimentare. Siamo nati da questo mondo, viviamo in questa città, ne siamo orgogliosi, vogliamo portare avanti i temi predominanti di questa città che sono l'agroalimentare. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, quando abbiamo realizzato questo centro. La rivista secondo noi ci porta lustro, porta lustro e vittoria, è una cosa che ci interessa senz'altro. e vogliamo portare delle innovazioni, o trasferire delle innovazioni, alle nostre imprese che sono tante e sono soprattutto nel settore agroalimentare. La prima edizione del convegno segna anche la nascita del sodalizio fra il mensile Agri Sicilia e il consorzio Promoter Group per incrementare le iniziative per lo sviluppo del territorio.